Ciao a tutti, oggi prepariamo un pane di panchina, quindi vediamo i ingredienti e come lo possiamo fare. Useremo 400 grammi di panchina, non preoccupate, dopo che il nostro pane si cresce, vi mostrerò come lo possiamo fare. 650 grammi di flour, 15 grammi di salt, 5 grammi di sugar, 1 teaspoon di dry yeast e 2 tablespoon di extra virgin olive oil. First of all, we put the salt in the flour and the sugar and yeast in the panchina, that we will smash with a fork. Now we add the oil to the flour and also the panchina and we should work our dough at least 5 minutes. And we'll do the glut. And we're going to do the beans. And I'll do the rower for about 2 regions. And we're going to add a little bit for it. And we'll do the rotulare for a taste of a recipe, but we're going to add 10 grammi di panchina. Dopo 5-10 minuti che abbiamo lavorato il DAO, lo cover e lo mettiamo per fermentare 2-3 ore. E ora, come vi ho promesso, vi mostrerò come preparare la panchina. Ora che il nostro DAO è crescita, vi mostrerò come preparare la panchina. Ora eliminerò le sceglie e la panchina e cioccherò il nostro panchina. E dopo ciò cuocerò 10 minuti nella panchina con un po' di acqua. E ora eliminere la panchina con un po' di acqua. sorry I forgot we should also add a half teaspoon of salt after 10 minutes we turn off the fire we leave the pumpkin to become warm and after we smash it see you later to baking our bread after three hours our dough is more than the double now we divide it in eight ten pieces the most important things that they should be more or less equal if not someone will burn and someone will be uncooked now we take our eight balls and we put in a baking potter for another hour after one hour our bread is ready now we should bake it so we take the bread we put in the oven preheated at two hundred degrees but when we put our bread inside we slow down the temperature at 180 degree and we cook for 30 minutes more or less so let's see dopo 28 minuti a 180 gradi il nostro pane è pronto ora dovremmo aspettare 30 minuti perché stanno ancora cuocendo dentro quindi vediamo a presto per testarlo molto soft spettacolare un po' più warm quindi ragazzi vediamo la prossima ciao